Tutta la panchina bianco-rossa in piedi, abbracciata per questo ultimo possesso della partita. Grayson alla rimessa, c'è la difesa d'anticipo di Alibegovic su Stefano Tonut, indiziato numero uno. Grayson serve proprio Tonut che va per la vittoria e la tripla! Stefano Tonut! Che canestro signore e signori! Più uno Trieste! Un secondo e tre decime da giocare! Stefano Tonut è andato per la giugulare! 85-84, ventunesimo punto di Stefano Tonut, ma che cosa abbiamo visto al pala Rubini? Grayson cerca Tonut, lo trova, Stefano trova la tripla! Giorgio! 5-6, ventunesimo punto di Stefano Tonut, che è un suo conto di Stefano Tonut! Per la passita non è finita, non è il tuo conto! Qui, 같이 non sono ancora un 1-1-1-1-1! Grazie.